E' lo strato superiore che fa la magia, non lo so come. Linee seta ultra, l'assorbente ultra sottile, ultra assorbente. Come un abito, come gli occhiali, devi portare qualcosa che non ti dà problemi, no? Nessuno può superare l'asciutto e il pulito del filtrante seta, perché grazie ai piccoli fori fatti ad imbuto, il flusso penetra velocemente ed è subito catturato dagli strati ultra assorbenti, così il filtrante resta asciutto e pulito. Linee seta e linee seta ultra. Ma che addosso mi sento asciutta e pulita. Ols mentoliptus è la caramella ai vapori balsamici buona per il naso. Buona per la tosse. Per la voce. E non solo. Ols mentoliptus. Chi la vuole, sa perché. Lo sapevo, è finita un'altra volta in purgatorio. E adesso chi va a prenderla? Avete vinto per miracolo. Ma come? Siamo al bar e fai il caffè con la caffettiera. Questa è la vazzacrema e gusto, gusto espresso. Si fa con la caffettiera, ma è buono come un espresso. Prova. È vero, è buono. Lui di caffè li capisce. È di pallone che... Beh, certo avete fatto una figura. Dieci a zero. Grazie, ci avevano in porta a lui. Già la porta è piccola, poi quello apre le ali e quando passi... No, per essere onesti, bisognerebbe rifarla, eh. No. Allora mi porto qui al caffè. Un momento. Ah, vedi? No, 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 no. Non sarà pronto. Sette anni in botte. Non perdere nemmeno un minuto. Radiomatia. Radiomatia trasmette da vent'anni solo grandi successi. Radiomatia. Il meglio dei Matia Bazar in una nuovissima raccolta. Roventa rivoluziona la depilazione a cera. con dolcezza. Dolcezza scalda la cera a temperatura dolce. Il suo applicatore stende la cera. Dolcezza non scotta. E la cera è subito pronta per essere tolta. Dolcezza di Roventa. Gambe dolcissime. Roventa. Per chi non si accontenta. Parmacotto regala i Parmacotti. Cuoci patate, cuoci pollo e cuoci mela. Per averli basta raccogliere 19 punti sulle vaschette con duetti di Parmacotto, Parmella o le più buone. I Parmacotti sono decotto. Odegoccio. Mi rimango con sto dubbio. Dormirò? No. Non siamo soli. Aspirina è con te. Il medicinale può avere controindicazioni e effetti collaterali. Per i bambini di sotto dei 12 anni è necessaria la prescrizione medica. Leggere attentamente il foglio illustrativo. La bellezza per me? Prima di tutto avere capelli brillanti di salute. Io ho scelto la bellezza El Ced. Shampoo El Ced 2 in 1 dell'Oreal. Alle multivitamine della salute. B5 per nutrire la radice. PP per la vitalità. E per la brillantezza. L7 multivitamine dell'Oreal. Agisce dalla radice per capelli brillanti di salute. 1981. Il matrimonio del secolo. Il principe Carlo e Lady Diana Spencer.